23 marzo 1903. I fratelli Orville e Wilbur Wright presentano un brevetto per il primo velivolo a motore che può essere comandato in volo. I due fratelli infatti mettono a punto un meccanismo che permette all'aereo di virare, alzare o abbassare il muso nella direzione voluta dal pilota. È a partire da questa scoperta che diventa possibile pensare di utilizzare gli aerei per viaggiare.